ciao a tutti e benvenuti sulle le king tv quest'oggi spacchetteremo russia 2018 le nostre cinque bustine e proveremo a fare una top 11 con le figurine che troviamo come al solito voi sotto nei commenti scrivete la vostra figurina preferita e se avreste fatto una formazione diversa da quella che adesso cercherò di fare io con 11 giocatori avendo cinque bustine iniziamo subito la prima bustina vediamo cosa troviamo troviamo centrocampista e la lana del dell'inghilterra poi troviamo lo stadio di san pietroburgo troviamo naga tomo giocatore giapponese che ha giocato nell'inter poi amiri dell'iran centrocampista e rog della croazia centrocampista apriamo un'altra bustina e troviamo carlos sanchez ex giocatore della fiorentina e lo mettiamo a posto di amiri poi troviamo rudy della germania non lasciamo fuori per adesso dai centrocampisti di bala del dell'argentina ragazzi giocatore della juventus e questo è sicuramente un titolare poi troviamo la formazione della svizzera e matarrita difensore del costa rica andiamo con il terzo pacchetto ci manca il portiere due difensori e due attaccanti troviamo subito l'altro difensore che cionec della polonia dembele del belgio ragazzi tembele del belgio io a questo punto proverei a giocare con quattro centrocampisti e casome giochiamo soltanto due punte chamberlain dell'inghilterra anche lui un ottimo giocatore e leviamo a questo punto sanchez della colombia iones difensore dell'inghilterra titolare perché non abbiamo anche nient'altro per adesso e andiamo con il quarto pacchetto sta venendo fuori una bella formazione ragazzi una bella formazione allora troviamo augustinson difensore svetese io per adesso lo metterei fuori herrera centrocampista messicano e lui merita un posto titolare leviamo rog e mettiamo herrera poi troviamo vela del messico attaccante titolare tiago silva titolare leviamo mattarrita e sterling centrocampista anche sterling deve giocare e adesso qui siamo veramente in difficoltà e stiamo in difficoltà io a questo punto ragazzi direi di giocare con 5 centrocampisti leviamo un difensore quindi leviamo cionec mettiamo la difesa 35 centrocampisti e due attaccanti quindi ci mancherebbe soltanto il portiere per completare la formazione chissà se esce fuori da quest'ultima bustina troviamo al harby e lo leviamo difensore larsson centrocampista non può giocare a zofei fa altro centrocampista un po giocare troviamo troviamo formazione a serbia ragazzi non siamo riusciti a terminare la formazione la top 11 soltanto perché ci manca il difensore però veramente una top 11 da ma veramente forte ragazzi veramente forte forse il più scarsetto potrebbe essere nagatomo perché il resto sono tutti giocatori di altissimo livello ci vediamo nel prossimo video noi mi raccomando non perdete perché sarà il cielo mi manca in questa collezione ciao a tutti